Emozionante e intenso il concerto tenuto sabato scorso dalla civica filarmonica di Modica a Teatro Garibaldi della città della Contea in onore di Santa Cecilia. Come ogni anno la storica civica filarmonica diretta dal maestro Di Pietro ha tenuto il concerto in onore della Santa Patrona dei musicisti e degli strumentisti. Un evento che ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso, protagonisti della serata 50 strumentisti che hanno ripercorso i grandi classici della musica internazionale. Un'emozionante serata caratterizzata da suoni e note molto suggestive. Un evento salutato da interminabili applausi. Anche quest'anno si ripete per la trentesima volta il concerto di Santa Cecilia nella splendida connice del Teatro Garibaldi di Modica. Quest'anno abbiamo affrontato un repertorio molto impegnativo per i ragazzi, per il sottoscritto e per tutti. Ringraziamo sempre i numerosi pubblico che ha riempito il teatro anche questa sera. E vi aspettiamo alle prossime occasioni sempre con la civica filarmonica di Modica.